Non ho i dati, Damian lo capirà immediatamente, ma forse per me è un vantaggio. Ha promesso alla Bloom di consegnare tutto quello che abbiamo, incluso ciò che Iraq ha su di loro. Si è... si è cacciato in un bel casino. Tu non hai i miei dati, io non ho tua sorella. Siamo prevedibili, eh? Hai fatto un patto con la Bloom. Come lo sai? Hai un problema, Damian. Damian, vedi hai fatto conto su quell'hard drive. Che gli dirai se non ti darò niente? Dimentichi una cosa. La vita di tua sorella dipende solo da me. Beh, uccidila. Mi hai quasi fregato. Ci hai pensato abbastanza, Damian. La tua vita dipende da quel patto. Se uccidi Nikki, non avrai niente da me. Credi che la Bloom ti lascerà in pace? manderanno dei fix per farti fuori. Quindi adesso... il tuo destino dipende da me. Passami mia sorella. Noi siamo partner, Aiden. Ti piaccia o no? Hai bisogno di me. Aiden! Tutto ok? Stai bene? Ho paura. Ti prego, dimmi che Jackson è al sicuro. Sì, sta bene. Nikki, senti... Lo so. Per favore, non lasciare che... Sai una cosa, Aiden? Non sopporto che tu non mi prenda sul serio. La prossima volta, se non mi porti i miei dati, lei è morta. Edizione straordinaria. Marta, vengo a cambiare aria. Il giustiziere che si fa chiamare la Volpe sia stato visto in centro a Chicago. La polizia chiede di mantenere la calma. Non avvicinatevi al sospetto. È armato e molto pericoloso. Riceviamo molte foto fatte con il cellulare. Damien, sta a che l'antimegaschermi. Ma dov'è? La polizia sta transennando l'area del centro. Lì, nel furgone WKZ. Devo disattivarlo. La polizia ritiene che l'attività di Pierce duri da mesi. È violento e probabilmente instabile. Non assomiglia a... No, secondo me è il buitavverto. Mi crei troppi problemi, Aiden. Non costringermi a dimostrartelo. Non hai niente da dimostrarmi. Altro errore. Sai quei trucchetti che fai con il CTOS? Ti ho guardato. E io imparato. Vuoi vedere cosa so fare? Ecco che succede a fare patti col diavolo. Vedi di non farti catturare. Non sarebbe un bene per tua sorella, vero? A tutte le unità, stanzione CTOS completata. Diramiamo la posizione del sospetto. Ora gli vado a sosso. Non so, non so, non so, non so. Sono lei, Calvini! Polizia, accosta subito. Guarda, i blocchi sono attivi. Dobbiamo fermerlo. Lo fermerò io. La tratta subito. Serve l'accesso più di unitario al DOS, ora. Ok, blocchi. Andiamo andando addosso. Andiamo addosso. Polizia, accosta subito il veicolo. Ora ti vado addosso. Accosta, accosta subito. Arrenditi, accosta subito. Il tipo sa guidare. Abbiamo problemi a fargli dietro. Arrenditi, accosta. Dobbiamo fermerlo. Oh, merda, attenzione. Mi hanno avvistato il sospetto. Mi hanno colpito. Lo fermerò io. Occhio alla strada. Andiamo andando addosso. Sperma il veicolo e arrenditi Non riusciamo a stargli dietro, il tempo ci sa fare La centrale abbiamo perso il sospetto, è sparito Controlliamo a sud della vostra posizione E' una perdita di tempo, se n'è andato, torniamo indietro Ehi qui va tutto bene, ho rianviato il backup Fra poco il bunker si rimetterà in moto Ho parlato con Nicky Tua sorella? Va tutto bene? La libereremo Forse so come cercarla A un certo punto ho sentito un altoparlante, molto sullo sfondo Ha detto qualcosa, un nome o un luogo Puoi ripulire l'audio per scoprire che cosa ha detto Non sono un mago dell'audio Però mandamelo, qualcosa riuscirò a fare Ok, sto tornando al bunker No, 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 no C'è ancora da fare Indovina cosa ho trovato Il nido d'amore di The Vault Riprendiamoci ciò che ci ha rubato